Musica Buona domenica, bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Cominciamo dal lunedì 9 dicembre. Nuovo presunto caso di mala sanità in Sicilia. È stata aperta un'inchésta ed è stata avviata un'ispezione da parte dell'assessorato regionale alla salute sulla morte di un bambino avvenuto due giorni dopo la sua nascita ad Agrigento. Nuovo presunto caso di mala sanità in Sicilia. È stata aperta un'inchiesta ed è stata avviata un'ispezione da parte dell'assessorato regionale alla salute sulla morte di un bambino avvenuto due giorni dopo la sua nascita ad Agrigento. Il parto era avvenuto a Sciacca, all'ospedale Giovanni Paolo II, dove una donna di 33 anni della zona si era recata alla rottura delle acque, momento in cui non avrebbe riscontrato problemi. Arrivata all'ospedale, i medici dopo i primi esami hanno disposto però a un parto cesareo d'urgenza. Subito dopo la nascita sono stati riscontrati problemi. Il neonato presentava la gamba sinistra tumefatta. Per questo motivo d'urgenza è stato trasferito all'utine dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove però è morto due giorni dopo. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti. La polizia ha sequestrato le cartelle sanitarie della madre e del neonato per esaminarle. Oggi il magistrato deciderà se disporre l'autopsia. Gli obiettivi dell'inchiesta, oggi conoscitiva, sono diversi e riguardano entrambe le strutture coinvolte. Da Sciacca, dove è stato deciso di optare per un taglio cesareo d'urgenza invece del parto naturale, fino ad Agrigento, dove il bambino è stato trasferito per comprendere i motivi della morte. Inoltre l'inchiesta vuole comprendere se ci sono state negligenze da parte dei medici. La prossima settimana verranno sentite tutte le parti in causa in questa vicenda che ha sconvolto la famiglia, che fino al nono mese di gravidanza non aveva riscontrato alcun problema nelle condizioni del bambino. In seguito verranno nominati dei consulenti medico-sanitari che faranno chiarezza sul caso. E sempre ad Agrigento, la procura apre un'inchiesta sui crolli alla Scala dei Turchi, fascicolo aperto a carico di ignoti. L'occhio del drone ha scoperto migliaia di massi a rischio crollo, nei lati della collina che sovrasta la Scala dei Turchi. Le pietre che sono avvenute giù nei giorni scorsi non sono nulla rispetto a ciò che rischia ancora di cadere. Questo l'allarme è lanciato da Mare Amico, delegazione Agrigento, su un post su Facebook. Serve urgentemente, prosegue il post, una massiccia opera di disgaggio, al fine di far crollare in maniera controllata tutti i massi pericolanti e chiudere fisicamente la zona ovest a rischio. E nel frattempo la procura di Agrigento, nei giorni scorsi, ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti per inosservanza dell'enorme tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, sulla situazione nella Scala dei Turchi a Real Monte. Il costone di Marna Bianca della Scala dei Turchi, candidato a diventare patrimonio dell'UNESCO, si sta sbriciolando. A lanciare l'allarme, documentando con foto e video, era stata proprio l'associazione ambientalista Mare Amico, che è tornata a denunciare lo stato in cui si trova il sito. Si avvicina il Natale, il centro di Palermo si prepara a trasformarsi in una grande isola pedonale da piazza Castelnuovo ai quattro canti. Voi per farvi sentire siete venuti davanti alla prefettura con i vostri strumenti. Il mio presidente dell'Auser, il santo Refice, mi ha chiesto se potevo venire con il coro che noi facciamo parte di questo Hauser. Questo è il coro dell'Auser e noi siamo venuti per sottolineare quello che invece loro già stanno presentando e stanno cercando di contrattare con il governo per avere la rivalutazione di vent'anni a venire qua di non rivalutazione e poi perché ci sono dei casi di persone che sono sole, che sono senza accompagnamento, che hanno bisogno. Noi ricordiamo al governo che intanto i pensionati siamo 16 milioni in Italia, quindi un terzo della popolazione. Noi ci siamo stancati di essere considerati invisibili e di non essere ascoltati. Noi abbiamo fatto una manifestazione nazionale il 16 novembre scorso a Roma, a Circo Massimo, dove lì ci sono stati centinaia di migliaia di pensionati e di pensionati per rivendicare sostanzialmente tre elementi essenziali. Uno è quello di fare una legge nazionale sulla non autosufficienza perché in Italia ci sono più di 3 milioni di persone che vivono condizioni di estremo disagio economico, sociale e che hanno bisogno di essere aiutate. Poi chiediamo anche che si faccia una rivalutazione delle pensioni perché in questi anni dalla riforma della Fornero a ora, quindi da circa 6-7 anni sostanzialmente, i pensionati non hanno preso un aumento di pensione, se non le pensioni proprio minime, le pensioni basse. Allora noi chiediamo che si faccia una vera rivalutazione delle pensioni per recuperare il potere d'acquisto delle pensioni perché non se ne può uscire il governo dicendo di dare un aumento di 40 centesimi al mese in più ai pensionati. Voi vi considerate di fatto degli invisibili, nonostante a Roma eravate tantissimi? Non siamo invisibili, se poi qualcuno non ci vede o non ci vuole vedere è un problema di loro, ma noi siamo abbastanza visibili, è presente e in continuo aumento, quindi è una categoria che va attenzionata ed ascoltata. Martedì 10 dicembre anche a Palermo si è svolto il sit-in organizzato dai sindacati dei pensionati. I carabinieri della compagnia di Canicattì e personale della squadra mobile della questura del Grigento hanno arrestato i fratelli Antonio e Giuseppe Maira di 69 e 63 anni di Canicattì, accusati in concorso di estorsione, aggravata ed usura. Entrambi sono noti alle forze dell'ordine, in particolare Antonio Maira risulta già condannato quale appartenente alla criminalità organizzata, mentre entrambi sono attualmente imputati presso il Tribunale di Grigento in un altro procedimento per associazione per delinquere finalizzato all'usura e all'estorsione. L'indagine è partita dalla denuncia presentata da un imprenditore di ILE, in particolare l'uomo ha riferito che nel 2016, in un momento di difficoltà economica, chiese ed ottenne 25.000 euro in contanti da uno dei fratelli, dietro la promessa di restituzione di 2.500 euro mensili, imputabili quali interessi senza la fissazione di un termine per la restituzione del capitale. Nel febbraio 2019, dopo avere già consegnato agli usurai circa 80.000 euro, la vittima, resasi conto di non poter più far fronte ai pagamenti, decise in un primo tempo di rivolgersi alle forze dell'ordine, per poi far perdere le proprie tracce insieme ai familiari. Gli investigatori, attraverso intercettazioni e indagini tradizionali, avrebbero accertato sia le richieste usurarie dei fratelli, sia lo stato di vero e proprio terrore in cui versava l'intero nucleo familiare dell'imprenditore. Si era sparsa la voce che due fratelli volessero ancora 40.000 euro e avessero iniziato la caccia al debitore. E' stato ascoltato l'imprenditore che ha confermato la denuncia e nel corso di una perquisizione in casa dei due fratelli, gli investigatori avrebbero trovato altre prove che hanno permesso di eseguire il provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Usura ed estorsioni, imprenditore costretto a fuggire da Canicattì, arrestati due fratelli. I carabinieri della compagnia di Canicattì e personale della squadra mobile della questura del Grigento hanno arrestato i fratelli Antoni Giuseppe Maira, di 69 e 63 anni di Canicattì, accusati in concorso di estorsione aggravata ed usura. Entrambi sono noti alle forze dell'ordine, in particolare Antonio Maira risulta già condannato quale appartenente alla criminalità organizzata, mentre entrambi sono attualmente imputati presso il Tribunale di Agrigento in un altro procedimento per associazione per delinquere finalizzato all'usura e all'estorsione. L'indagine è partita dalla denuncia presentata da un imprenditore di ILE, in particolare l'uomo ha riferito che nel 2016, in un momento di difficoltà economica, chiese ed ottenne 25.000 euro in contanti da uno dei fratelli, dietro la promessa di restituzione di 2.500 euro mensili, imputabili quali interessi senza la fissazione di un termine per la restituzione del capitale. Nel febbraio 2019, dopo avere già consegnato agli usurai circa 80.000 euro, la vittima, resasi conto di non poter più far fronte ai pagamenti, decise in un primo tempo di rivolgersi alle forze dell'ordine per poi far perdere le proprie tracce insieme ai familiari. Gli investigatori, attraverso intercettazioni e indagini tradizionali, avrebbero accertato sia le richieste usurarie dei fratelli, sia lo stato di vero e proprio terrore in cui versava l'intero nucleo familiare dell'imprenditore. Si era sparsa la voce che i due fratelli volessero ancora 40.000 euro e avessero iniziato la caccia al debitore. È stato ascoltato l'imprenditore che ha confermato la denuncia e nel corso di una perquisizione in casa dei due fratelli, gli investigatori avrebbero trovato altre prove che hanno permesso di eseguire il provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Vertenza Almaviva, fumata grigia al Ministero, si tratta per scongiurare gli esuberi, nuovo vertice a Roma sul call center di Palermo. Vertenza Almaviva ancora in alto mare. Ieri si è svolto un importante incontro definito da tutte le parti interlocutorio, ma un'apertura sembra esserci stata. Al vertice assente la Regione, presenti invece i sottosegretari Steni di Piazza, Lavoro, Alessandra Todde, Sviluppo Economico e l'assessore comunale Giovanna Marano, oltre all'azienda e ai sindacati. Il governo, assicura Emiliano Cammarata, che rappresentava la SLCCGL al tavolo, sta cercando di fare pressioni sui committenti. Qualche spiraio sembra essersi aperto. Una cosa è certa, rimane ancora l'incognita degli esuberi. Fino al 31 marzo ci sarà la cassa integrazione al 35%, ma ad aprile in poi potrebbero scattare 1.600 licenziamenti nel call center di Palermo, dopo il taglio dei volumi da parte di Team Wind 3 e Alitalia. I fronti su cui si può lavorare, osservano i sindacati, sono due le tariffe applicate dai committenti ed Almaviva e di Volumi. L'azienda, qualche giorno fa, si è impegnata a riportare tutte le operazioni in Italia se il prezzo sarà congruo. La richiesta dei sindacati è l'applicazione delle tabelle ministeriali per le tariffe applicate dai principali committenti che si riflettono sul costo del lavoro. Almaviva, spiega l'azienda, ha confermato ancora una volta nel rispetto del percorso e dei tempi indicati dalle intese la piena volontà di contribuire a soluzioni che assicurino reale sostenibilità economico-produttiva ed effettiva stabilità occupazionale per il call center di Palermo, colpito dal taglio radicale dei volumi di attività affidate dalla committenza. Ma considerato che nel tempo l'azienda ha messo in campo e ad oggi esaurito ogni leva o strumento possibile a propria autonoma disposizione, specifica Almaviva, la definizione delle soluzioni impone il concorso necessario e urgente dei principali committenti. Almaviva ha ribadito l'assoluta disponibilità a riportare in Italia le attività attualmente svolte fuori dal territorio nazionale purché a queste venga riconosciuta la corretta remunerazione. Il tavolo non ha ancora prodotto una soluzione necessaria a salvaguardare i livelli occupazionali e il futuro di Almaviva a Palermo, ha commentato il sindaco Leluc Orlando. È comunque importante che tutte le parti continuino un lavoro comune. Auspichiamo che il governo nazionale possa entro Natale portare al tavolo un intervento strutturale efficace al rientro in Italia di significative commesse per assicurare un futuro con meno ansia e preoccupazioni per le 2.500 famiglie che oggi restano preoccupate in attesa. Mercoledì 11 dicembre i carabinieri del ROS coadiuvati da quelli del comando della Compagnia dei Carabinieri di Corleone hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e del suo nucleo familiare per un valore complessivo di circa 500.000 euro. I carabinieri del ROS coadiuvati da quelli del comando della Compagnia di Corleone hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e del suo nucleo familiare per un valore complessivo di circa 500.000 euro. Si tratta di una delle famiglie più influenti all'interno del panorama mafioso della provincia di Palermo. Questo dato non è ricavabile esclusivamente dalla mera parentela con il suo principale esponente nonché capo indiscusso dell'organizzazione mafiosa siciliana il defunto Rina ma piuttosto trova autonomo e ben più grave fondamento dall'analisi delle vicende storico-giudiziarie che hanno riguardato ciascuno dei suoi componenti. Le indagini patrimoniali condotte dal ROS costituiscono il completamento della più generale attività di contrasto condotta dai carabinieri nei confronti del potente mandamento mafioso di Corleone uscito depotenziato negli ultimi cinque anni dagli esiti delle indagini denominate Patria, All Stars e Grande Passo e dai sequestri di beni a carico del defunto capo mafia Rina e del fratello Gaetano. I beni sequestrati sono localizzati nella provincia di Palermo e sono costituiti da un'abitazione un magazzino, un'autovettura otto rapporti bancari e sei polizze assicurative. Punto cruciale dell'indagine patrimoniale rappresentato dall'evidente sperequazione tra i redditi dichiarati negli anni da Grizzaffi e dei propri congiunti da cui è stato possibile ipotizzare l'utilizzo di mezzi e di risorse finanziarie illecite. Caro voli, sconti per studenti fuorisede disabili, lavoratori con basso reddito intanto dalla regione messi a disposizione Pullman a prezzi simbolici per gli studenti che tornano in Sicilia a Natale. Dopo le denunce giornalistiche sul rincaro dei prezzi dei biglietti per tornare in Sicilia con costi oltre 600 euro andate in ritorno la proposta del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri sulle tariffe sociali per quattro categorie sui voli diretti nella penisola è stata approvata dalla Commissione Trasporti nel Senato. Una manovra innovativa che prevede sconti del 30% per studenti fuorisede disabili con 104 lavoratori con reddito inferiore a 20.000 euro l'anno e malati con lo stesso reddito. Questo sarà solo un primo passo per raggiungere la continuità territoriale che anche l'Udc Italia vuole per ogni siciliano ha commentato anche il senatore Udc Antonio Saccone. Invitiamo la regione Sicilia a partecipare ai bandi dell'Unione Europea ma soprattutto vogliamo stimolare il governo italiano affinché dia le stesse opportunità ai cittadini siciliani. Con 120 milioni di euro lo Stato italiano aiuta i sardi oggi finalmente bisogna aiutare anche i cittadini siciliani e questa battaglia la faremo sia a livello dell'Udc Sicilia ma anche a livello nazionale. Intanto il governo musulmeci tende una mano agli studenti siciliani al nord che rischiano di non poter rientrare a casa per il periodo natalizio a causa delle proibitive tariffe aeree. Attraverso l'azienda siciliana Trasporti saranno infatti messi a disposizione fino a 8 pullman a un costo simbolico per viaggiatore che va dai 10 ai 30 euro. Il servizio che inizia a Milano e prevede una sosta a Roma e una a Napoli sarà offerto dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. Le prenotazioni si ricevono direttamente all'Ast. Nei prossimi giorni tutti i dettagli sui siti ufficiali della regione dell'azienda siciliana Trasporti. Giovedì 12 dicembre impianti di compostaggio rifiuti dei comuni. La regione fa strage dei progetti. Sulla già disastrosa raccolta rifiuti dell'isola piove un altro macigno. Il paradosso è che a scagliarlo sono gli uffici della regione siciliana che con grandissima inaudita severità del tutto fuori luogo dice il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri ha fatto strage dei progetti di compostaggio dei rifiuti organici presentati dai comuni isolani bocciandone ben 92 su 97 presentati quasi il 95%. Sotto la scura dei severi uffici dell'assessorato dell'energia sono caduti uno dopo l'altro i progetti presentati da comuni piccoli anche grandi come Messina e Denna che ambivano ad accaparrarsi una fetta dei 16 milioni messi a disposizione dall'Unione Europea per potenziare la lotta contro i rifiuti. È assurdo commenta Sunseri gli uffici potevano e dovevano ricorrere alla prevista e diffusa pratica del soccorso istruttorio come si fa in questi casi invitando i comuni a rimediare alle carenze individuate che in alcuni casi sono veramente ridicole se si pensa che alcuni progetti sono stati bocciati perché la firma digitale apposta sull'elaborato non era valida o uno dei documenti presentati nel DVD non era firmato digitalmente. Non si può perdere un fiume di finanziamenti per cavilli di questo tipo. La Regione ci ripensi e faccia marcia indietro concedendo ai comuni tempo e supporto per rimediare alle carenze registrate dai solertissimi funzionari di Piero Bon. In una Regione dove mancano gli impianti pubblici per la raccolta dell'umido che lo ricordiamo rappresenta il 40% dell'intera produzione dei rifiuti commenta il deputato Gian Piero Trizzino bocciare quasi tutti i progetti presentati dai comuni semplicemente per meri errori materiali vuol dire non avere la volontà di risolvere il problema. Si riesaminino le stanze utilizzando criteri razionali in modo tale da non perdere i fondi dell'Unione Europea aiutando concretamente i comuni a potenziare i sistemi di raccolta. Piero Bon dimostri la volontà di spingere gli impianti di compostaggio pubblico e di comunità non mega impianti con grande impatto ambientale. La Corte d'Assise di Catania ha condannato a 13 anni di reclusione per duplice omicidio e tentativo di omicidio il gioielliere di Nicolosi Guido Gianni di 57 anni che il 18 febbraio del 2008 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La Corte d'Assise di Catania ha condannato a 13 anni di reclusione per duplice omicidio e tentativo di omicidio il gioielliere di Nicolosi Guido Gianni di 57 anni che il 18 febbraio del 2008 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo che avevano assaltato il suo negozio minacciando di uccidere la moglie con una pistola poi risultata salve senza il tappo rosso. Il PM aveva chiesto la condanna a 17 anni. I giudici hanno disposto un risarcimento per le parti civili i familiari delle due persone uccise Davide Laudani e Sebastiano Catania e il ferito Fabio Pappalardo. I legali del gioielliere gli avvocati Orazio Gulisano e Michele Liuzzo che hanno annunciato ricorso hanno sostenuto la tesi della legittima difesa e che la mente di Gianni in quel momento fosse offuscata dall'aggressione subita dalla moglie da parte dei rapinatori. Sul caso indagarono i carabinieri la gioielleria di Gianni il 18 febbraio venne assaltata dai due e durante le fasi concitate della rapina venne minacciata la moglie con una pistola. Gianni uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Il nodo cruciale del processo è stata proprio la questione della legittima difesa. Secondo l'accusa supportata dalla ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri Gianni avrebbe ucciso i rapinatori mentre erano in fuga. La vicenda era già divenuta un caso nazionale con interventi anche di politici come il leader della lega Matteo Salvini e adesso è tornata al centro della scena nazionale. Salvini è intervenuto nuovamente con una dichiarazione dai toni molto duri vergogna ha detto la giustizia italiana condanna alla galera il commerciante aggredito a Nicolosi con la moglie minacceata di morte io sto con chi si difende sempre. Venerdì 13 dicembre Ippica alla Sipet la gara per la rinascita dell'ippodromo della Favorita di Palermo. L'ippodromo della Favorita potrà tornare alle normali attività sportive dopo due anni di inattività. L'ufficio contratti del comune ha ultimato le procedure per la giudicazione della gara che è stata affidata alla Sipet SRL di Monsummano Terme in provincia di Pistoia unica società ad avere presentato un'offerta questa gestirà l'impianto di Viale Delfante per 30 anni la Sipet dovrà adesso presentare un cronoprogramma così come era specificato dal mando per il recupero della struttura compresi i locali che ospitavano un ristorante e tutte le aree di pertinenza il nuovo concessionario dovrà ripartire da capo considerando che l'ippodromo necessita di abbondanti opere di manutenzione e di un piano pluriennale per ammortizzare gli investimenti in base alla convenzione il concessionario dovrà prerisporre quindi un cronoprogramma al massimo quinquennale per la bonifica dell'amianto presente nelle scuderie per la demolizione dei fabbricati abusivi e per gli interventi di ristrutturazione impiantistica per il sindaco Orlando e l'assessore D'Agostino si apre una nuova fase che dicono speriamo sia davvero e per sempre la chiusura di un momento buio dell'ippodromo una nuova ripartenza che permetta di valorizzare questa splendida struttura non solo per gli appassionati dell'ippica ma anche con tante iniziative culturali e ricreative il comune la rap e il comando legione dei carabinieri di sicilia insieme per incrementare i livelli di raccolta differenziata a palermo il comune la rap e il comando legione dei carabinieri di sicilia unitamente al dodicesimo reggimento carabinieri insieme non solo per incrementare i livelli di raccolta differenziata a palermo ma anche per coniugare convintamente azioni a tutela dell'ambiente in quest'ottica è stato sottoscritto a palermo nella sede del comando di Corso Vittorio Emanuele Caserma Carlo Alberto dalla Chiesa dal primo cittadino Lelu Carlando dal presidente della rap norata e dal comandante della legione dei carabinieri generale Giovanni Cataldo un protocollo di intesa che prevede la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata di carta cartone vetrometalli plastica e organico negli uffici del comando e in altri uffici dell'arma del capoluogo siciliano il protocollo prevede una sinergia da entrambe le parti per procedere in maniera corretta alla raccolta differenziata il ritiro il recupero del materiale differenziato nei contenitori collocati nelle varie sedi dei carabinieri anche quella del dodicesimo reggimento sarà curato dall'area raccolte differenziate della rap con questo protocollo spiega il generale Cataldo ci impegneremo a fare la nostra parte per la raccolta differenziata qua c'è il controllo sociale oltre quello gerarchico e non ci tireremo indietro bisogna diffondere la cultura della legalità anche dal punto di vista ambientale che questo protocollo sia un segnale non solo per la città ma per la Sicilia tutta bisogna partire dalle scuole per giungere al cuore delle famiglie il presidente della rap Giuseppe Norata condivide l'importanza di partire dall'educazione ambientale dei piccoli ambasciatori ambientali e in quest'ottica tante sono le visite organizzate dalla rap con le scuole presso i centri comunali di raccolta questo protocollo spiega Norata nasce ancora una volta da un'esigenza ben precisa aumentare in maniera esponenziale la raccolta differenziata a Palermo in modo che si possano ottenere risultati importanti percorso obbligato per dare una risposta puntuale di responsabilità all'esigenza ambientale al pianeta promuovere la cultura della differenziata partendo soprattutto dai più piccoli affinché differenziare diventi la quotidianità e non l'eccezione soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Orlando questo è un importante accordo operativo per l'avvio della raccolta differenziata già dal prossimo gennaio anche presso il comando Legione dei Carabinieri una vera cittadella nel cuore della città con quasi mille tra carabinieri e personale addetto con servizi di mensa e quindi una produzione significativa di rifiuti sabato 14 dicembre la Corte dei Conti conferma il disastro finanziario della regione accumulato negli ultimi 25 anni nel 2015 il valore degli accantonamenti per i residui perenti era individuato in circa 80 milioni di euro oggi il governo ha portato quel valore ad oltre 520 milioni di euro così determinando una crescita che è stata pari anche nelle altre voci sulla cosiddetta parte accantonata complessivamente a un miliardo e 200 milioni di euro il che significa 5 volte in più questa regola di parsimonia e di sobrietà si ritrova anche nella gestione delle posizioni debitorie che nell'ultimo anno hanno visto la regione compiere la scelta di non aumentare il proprio indebitamento anzi di vederlo ridurre sensibilmente nel biennio del mio governo per un importo superiore a 600 milioni di euro il 2015 perché non dirlo è stato un anno sorribile per la regione siciliana l'unico nel quale si è ritenuto di poter approvare una legge la legge regionale numero 31 voglio ricordarlo anch'essa mai impugnata dallo Stato peraltro a fronte di uno specifico impegno di intervenire legislativamente poi disatteso che ha rideterminato il disavanzo pubblicando la norma nel corso del successivo esercizio una cosa incomprensibile mai accaduta peraltro quella scelta che vale circa 2 miliardi di euro di maggior disavanzo poi riaccertato è ancora tra i punti di origine della complessa gestione attuale assieme al mancato e corretto accertamento straordinario di tutti i residui attivi e passivi che potevano solo in quella fase meno legislazione vigente essere assorbiti in 30 esercizi così non è stato ma non occorre perdersi d'animo il mio governo nel confronto costante tanto con lo Stato col quale abbiamo raggiunto due accordi significativi quanto con l'assemblea regionale siciliana proseguirà l'azione di risanamento abbiamo scelto di fare nostro il principio della responsabilità di mandato peraltro affermato dalla Corte Costituzionale ma non si tratta di un principio giuridico o meglio non si tratta solo di un principio giuridico per noi è un vincolo morale per noi è l'etica della responsabilità è l'obbligo della buona amministrazione che deve rispondere delle proprie scelte e dimostrare di essere all'altezza del mandato ricevuto tempesta di vento su Palermo alberi e pali caduti danni anche nella provincia chiusi collegamenti con le isole una tempesta di vento con raffiche fino a 100 km orari si è abbattuta questa notte su Palermo danni e tanta paura per le strade ma anche nelle abitazioni circa 100 gli interventi compiuti dai vigili del fuoco del comando provinciale fino alle 7 del mattino pali e pensiline volati via ma i danni maggiori sono stati causati dalla caduta di alberi molti dei quali sono finiti su auto parcheggiate è successo in via Dante al Foritalico nella zona di Mondello Valdesi e Partanna Mondello dove alcuni alberi sono caduti sulle abitazioni e sulle strade in città è caduto un grosso albero in via Guido d'Arezzo davanti alla scuola in Audi una palma invece è crollata sul cancello del Villino Florio in via Regina Margherita in Corso Tucori gli alberi sono caduti davanti ad una rosticceria in presenza di molta gente tronchi e rami sono finiti sulle auto parcheggiate anche a piazza Bologni il vento ha sradicato un gazebo mentre in piazza Mordini il vento ha spazzato alcune palme crolli di alberi anche nei pressi della palazzina cinese e forti volate anche sull'autostrada Palermo Mazzarale e il Vallo nei pressi dello svincolo di Tommaso Natale un bagno chimico è stato sollevato è ribaltato dal vento ed è finito sull'asfalto poco distante in serate nelle prime ore della notte alcuni locali hanno dovuto smontare i gazebo che rischiamo di volare via spazzati dal vento la zona più colpita è quella di San Martino delle Scale la strada provinciale 57 è stata chiusa per la caduta di alberi tutta la frazione è isolata anche sul fronte energetico perché alcuni alberi sono caduti sui fili della luce blackout anche in altre zone di Palermo per tutta la giornata sarà allerta gialla secondo l'avviso diffuso dalla protezione civile regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico è tutto grazie per l'attenzione vi auguro ancora una buona domenica grazie per la visione